ma è arrivato qualcuno al casale forse sono quello di bell'estate ma che fai io? com'è che ti idriami? Giulio facciamo un gioco uno due vieni allora Lia sei qui da sola? certo che starsene qua da sola non è il massimo è tutto uguale gli alberi, i campi, gli alberi, i campi c'è allora? io ti voglio aiutare sono aperto la finestra esci vai via esci via 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 non fai se mi ami via 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 via